mentre scendeva lo scalone del circolo surriscaldato come una serra il barone desmordiens aveva lasciato aperta la pelliccia e di conseguenza quando il portone venne richiuso dietro di lui provò subito un forte brivido di freddo uno di quei brividi repentini e penosi che rendono tristi come un dolore aveva perduto del denaro e il suo stomaco da qualche tempo gli procurava sofferenze era sul punto di rincasare e subito il pensiero del suo appartamento grande e vuoto del domestico che lo stava aspettando sonnecchiando nell'anticamera del gabinetto di toletta dove l'acqua tiepida era già stata preparata il grande letto antico e solenne come un catafalco gli fece penetrare sino in fondo al cuore come in fondo alla carne un altro freddo ancora più doloroso di quello dell'aria gelida da qualche anno sentiva gravare su di sé il peso di quella solitudine che spesso opprime gli scapoli incalliti prima era forte alacre e gaio dedicava tutte le giornate allo sport e tutte le notti alle feste adesso si era appesantito e niente gli dava più piacere gli esercizi fisici lo affaticavano i pranzi e le cene gli facevano male le donne lo annoiavano tanto quanto una volta lo avevano divertito la monotonia delle serate tutte uguali degli stessi amici ritrovati allo stesso posto al circolo delle stesse partite giocate con fortuna o no delle stesse parole sugli stessi argomenti delle stesse maldicenze sulle stesse signore noi malinconivano al punto da suggerirgli alle volte concreti desideri di suicidio non poteva più condurre quella vita regolare e vuota così banale leggera e pesante allo stesso tempo e desiderava qualcosa di tranquillo di riposante che potesse riconfortarlo che potesse riconfortarlo ma non sapeva cosa di certo non pensava a prendere moglie poiché sentiva di non avere il coraggio di quell'autocondanna alla malinconia alla schiavitù coniugale all'esistenza odiosa di due esseri che condannati a stare sempre insieme si conoscono sino al punto di non poter dire una parola non preveduta dall'altro di non avere un pensiero, un desiderio, un giudizio che l'altro non indovini era persuaso che non ci piace vedere una persona quando la si conosce a fondo quando nulla resta in lei di inesplorato, di misterioso, di inquietante, di reticente avrebbe dunque avuto bisogno di una famiglia che non fosse una famiglia in cui passare soltanto una parte dell'esistenza e così ancora una volta gli si affacciò alla mente il ricordo di suo figlio da un anno pensava a lui di continuo sentendo aumentare dentro di sé l'irritante desiderio di vederlo o di conoscerlo lo aveva avuto quando era molto giovane in circostanze romantiche e drammatiche il piccolo, mandato nel sud era stato educato vicino a Marsiglia senza conoscere il nome del padre egli aveva pagato dapprima una balia poi il convitto, poi i mesi di vacanza infine una somma destinata a mettere il figlio in condizione di fare un discreto matrimonio aveva fatto da intermediario un notaio pieno di discrezione senza rivelare mai niente e così il barone di Mordian sapeva solamente che una persona del suo sangue viveva in qualche posto nei pressi di Marsiglia che era stato giudicato intelligente e ben educato che aveva sposato la figlia di un architetto imprenditore edile di cui aveva rilevato l'azienda dicevano anche che aveva guadagnato un mucchio di soldi perché non andare a trovare questo figlio mai conosciuto senza rivelare il proprio nome innanzitutto lo doveva osservare poi si poteva accertare se all'occorrenza egli avrebbe potuto trovare in quella famiglia un simpatico rifugio aveva fatto molto per lui mettendogli a disposizione una somma considerevole accettata con gratitudine e così era sicuro che non avrebbe incontrato nel figlio orgogli soperflui quel pensiero e quel desiderio che ritornavano tutti i giorni che lo invitavano a partire per il sud della Francia gli davano l'irritazione di un prurito era lusingato anche dalla curiosa tenerezza degli egoisti dalla immaginazione che gli faceva fantasticare su una casa ridente e calda sulle live del mare dove avrebbe trovato una giovane nuora un ipotini con le braccia aperte e un figlio che gli avrebbe ricordato la breve e stupenda avventura di quegli anni lontani gli dispiaceva soltanto ad aver dato troppo denaro e che questo denaro nelle mani del giovane si fosse ancora accresciuto cosa che non gli dava più l'opportunità di presentarsi a lui nelle vesti del benefattore camminava immerso in questi pensieri la testa protetta dal bavero della pellizza d'improvviso prese la decisione passava una carrozza da nolo la chiamò si fece condurre a casa e quando il domestico insonno lito gli aprì la porta disse lui domani sera partiamo per Marsiglia forse ci rimarremo una quindicina di giorni fate tutti i preparativi necessari il treno correva costeggiando le sabbie del Rodano poi attraversando pianure assolate villaggi puliti una vasta plaga chiusa in lontananza da uno sfondo di montagne brulle e adesso dopo una notte passata in vagone letto il barone di Mordian si guardava con un po' di malinconia nel piccolo specchio del suo astuccio da viaggio la luce violenta del sud gli rivelava rughe che ancora non conosceva una vecchiezza volutamente ignorata nella penombra degli appartamenti parigini mentre esaminava gli angoli degli occhi le palpebre pesanti le tempie la fronte dai capelli radi pensò altro che maturo sono quasi un vecchio e subito crebbe in lui un bisogno di pace insieme a un vago desiderio avvertito per la prima volta di tenere sulle ginocchia i suoi nipotini verso l'una dopo mezzogiorno con una carrozza presa a nolo a Marsiglia arrivò davanti a una di quelle case di campagna del Meridione situate al termine di un viale di platani ed un candore abbagliante da abbassare gli occhi percorrendo il viale sorrideva e pensava dentro di sé per dinci che posto grazioso all'improvviso un ragazzino vispo di 5 o 6 anni sbucò da un cespuglio si fermò sull'orlo del viale e guardò il visitatore con grandi occhi spalancati Mordian gli andò vicino buongiorno ragazzo e Morello non rispose e allora il barone si chinò e lo tirò a sé per baciarlo ma rimase soffocato da un sentore di aglio di cui era impregnato il bambino e lo rimise a terra di colpo morborando tra sé deve essere il figlio del giardiniere poi si incamminò verso la casa su una corda stesa davanti alla porta stava asciugando la biancheria camicia, asciugamani, strofinacci grembiuli e lenzuola mentre tutta una sfizia di calzini allineata su cordicelle sovrapposte occupava tutta la finestra e ricordava le mostre di salsicce davanti alle botteghe dei pizzicagnoli il barone chiamò comparve una serva la tipica serva meridionale sporca e scarmigliata i capelli le cadevano in cernecchi sulla faccia la sottana oscurata da un accumulo di macchie conservava una sfumatura chiassosa del colore originario qualcosa a metà tra i festoni delle fiere e i vestiti dei saltimbanchi domandò è la casa del signor Duchot? a suo tempo per un capriccio di vitaiolo cinico aveva dato questo nome al figlio bastardo perché non scordasse mai di essere stato trovato sotto un cavolo la serva ripetè che volete, il signor Duchot? sì, proprio lui beh, è in sala che fa i piani ditegli che il signor Marlène desidera parlargli allora, stupita lei fece ma se lo volete vedere entrate, no? e gridò vi cercano signor Duchot il barone entrò e in una grande stanza messa in ombra dalle imposte semichiuse scorse confusamente persone e cose che gli sembravano sporche in piedi davanti a una tavola sovraccarica di oggetti di ogni sorta un ometto calvo riempiva di linea e un grande foglio interruppe il lavoro e avanzò di due passi aveva il panciotto aperto i calzoni sbottonati i polsini rimboccati perché evidentemente pativa il caldo le scarpe infangate che calzava indicavano che qualche giorno prima doveva aver piovuto con un marcato accento meridionale e l'ometto domandò con chi ho l'onore di mi chiamo Marlène vengo a consultarvi per l'acquisto di un terreno da costruzione ah ah benissimo e rivolgendosi alla moglie che sferruzzava nell'ombra Duchot disse e sbarazza una sedia Giusefin allora Mordean vide una donna ancora giovane ma che pareva già vecchia vecchia come le provinciali lo sono a 25 anni perché si curano poco e non si lavano spesso e non hanno tutti quei piccoli accorgimenti di toletta che cristallizzano la freschezza e conservano fascino e bellezza sino oltre i 50 anni uno scialletto sulle spalle i capelli legati malamente dai capelli folti e nerima che si indovinava spazzolati di rado la signora Duchot allungò due mani da serva verso una sedia da cui tolse l'abitino d'un bambino un coltello un pezzo di spago un vasetto da fiori vuoto e un piatto unto per porgerla al visitatore questi sedette e si accorse allora che sulla tavola da lavoro di Duchot oltre ai libri e alle carte c'erano due cespi di insalata colti da poco un catino una spazzola da capelli una salvietta una pistola e un paio di tazze sudice l'architetto colse al volo quello sguardo e disse sorridendo scusate qui in sala c'è un po' di disordine sapete quei bambini e avvicinò la sua sedia per discorrere col visitatore dunque voi cercate un terreno nei dintorni di Marsiglia il suo fiato benché non fosse poi tanto vicino portò al barone quel profumino d'aglio tipico dei meridionali il suo fiato benché non fosse poi tanto vicino portò al barone quel profumino d'aglio tipico nei meridionali allo stesso modo che i fiori emanano il loro profumo Mordean domandò è vostro figlio quello che ho incontrato sotto i platani sì il secondo ne avete due tre uno per anno e pareva colmo d'orgoglio il barone pensò se mandano tutti lo stesso profumo la loro camera deve essere una serra poi continuò a parlare già vorrei un posticino grazioso vicino al mare su una spiazzetta deserta allora Duchot si animò di terreni come quello ne aveva dieci venti cinquanta cento e più di ogni prezzo e di tutti i gusti parlava come può fluire una fonte sorridendo contento di sé muovendo la testa calva e rotonda e Mordean rivedeva una piccola donna bionda sottile un po' malinconica e che diceva mio caro amore con tanta tenerezza che il solo ricordo gli ravvivava il sangue nelle vene quella donna lo aveva amato appassionatamente follemente per tre mesi rimasta incinta in assenza del marito governatore in un possedimento coloniale in Africa si era nascosta pazza d'angoscia e di terrore sino alla nascita del figlio che il barone le aveva portato via una sera d'estate e che non aveva mai più riveduto la donna era morta di Tisi tre anni dopo in quella colonia dove era andata a raggiungere il marito e ora il barone aveva davanti a sé quel figlio che battendo sulle finali come su un forte piano gli stava dicendo questo terreno signore è un'occasione davvero unica Mordian ricordava un'altra voce una voce leggera come un alito di vento una voce che morborava mio caro amore noi non ci separeremo mai mai che ricordava quello sguardo azzurro dolce profondo devoto lo ricordava contemplando gli occhi rotondi azzurri sì ma vuoti dell'ometto ridicolo che tuttavia somigliava alla madre già le somigliava sempre di più di minuto in minuto le somigliava nelle intonazioni nei gesti nell'atteggiamento le somigliava come una scimmia somiglia a un uomo ma era figlio di lei di lei aveva appena deformate mille caratteristiche irrefutabili irritanti ripugnanti il barone soffriva colpito improvvisamente da quella somiglianza orribile sempre crescente esasperante opprimente una tortura un incubo un rimorso borborò quando potremo vederlo insieme questo terreno anche domani se volete e sia domani a che ora a luna sta bene apparve sulla soglia il bimbo incontrato nel viale gridò papà non gli rispose nessuno Bordian era già in piedi assalito dal bisogno di scappare di correre via che gli metteva un fremito nelle gambe quel papà lo aveva colpito come una revolverata era rivolto a lui era per lui quel papà all'aglio quel papà meridionale che delizioso odore aveva la sua amante d'un tempo Dussault lo accompagnò alla porta è vostra questa casa si informò il barone sì signore l'ho acquistata da poco e ne sono orgoglioso sono un figlio di nessuno io e non lo nascondo e sono anzi orgoglioso io non devo niente a nessuno sono figlio delle mie opere devo tutto a me stesso scosso da un brivido in preda al panico Bordian fuggiva come si fugge davanti a un grave pericolo pensava ora indovinerà mi riconoscerà il bambino rimasto sulla soglia gridò ancora da lontano papà il barone pensava adesso mi abbraccerà griderà anche lui papà dandomi un bacio profumato all'aglio a domani signore a domani a luna la carrozza correva sulla strada bianca cocchiere alla stazione e Bordian sentiva due voci una lontanissima e lieve la voce stanca e un po' triste della donna che non c'era più e diceva amore caro l'altra sonora vivace terrificante che gridava papà come si grida arrestatelo quando un ladro scappa per la strada la sera seguente quando il barone fece il suo ingresso al circolo il conte di tre lì gli disse non vi ci vede da tre giorni siete stato poco bene sì un po' ogni tanto soffro d'emicrania grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti